Centinaia di messaggi ripetitivi provenienti dalla ormai nota sigla Novax. Anche il profilo Facebook del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, è stato oggetto di attacchi. Ad essere preso di mira è stato il post con cui sabato scorso il sindaco esprimeva la propria solidarietà alla vice sindaca di Arezzo Lucia Tanti, a sua volta oggetto di contestazioni. L'episodio è iniziato in tarda serata del 10 di gennaio e la mattina dell'11 di gennaio i messaggi erano già oltre 2000. Alcuni dei quali gravemente offensivi nei confronti delle figure istituzionali. Oltre a Meoni, la sigla Novax ha preso di mira ancora una volta Lucia Tanti con fotomontaggi recanti delle svastiche. Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine per ovviamente accertare i responsabili. Un attacco vergognoso da parte di persone che non hanno nemmeno il coraggio di metterci la faccia, dichiara il sindaco Meoni. Gli attacchi arrivano infatti da profili falsi o creati ad hoc e stanno commentando a ripetizioni con frasi farneticanti e offensive. Mi auguro che gli autori di questo squaldido teatrino possano essere identificati. Invitiamo ancora una volta i nostri concittadini a vaccinarsi affinché si possa superare la pandemia ribadendo fiducia nella scienza. E l'attacco Novax al sindaco di Cortona arriva a pochi giorni dalla riapertura del centro vaccinale proprio presso la palestra Berrettini-Pancrazia a Camucia di Cortona. Una scelta dovuta all'accelerata che ha subito la campagna vaccinale soprattutto per la terza dose e per l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il centro riaprirà giovedì 13 gennaio.